Dei supereroi animali Super Pets Ecco Super Pets Un nuovo film, eccolo No, sto guardando Super Pets Guarda Sì, sì, vedo Oh, che stai filmando? Oh, no, Ricky No, 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 fallo vedere anche quelli che stanno guardando il video Ok, ragazzi, questo No, 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 non dirlo Non lo devi dire Che cavolo Quando è finito il video Metti stop, ok? È finito? Ecco Stop